sembra una chiesetta sembra sì è aperta questa secondo? non lo so no sembra chiusa spingi? è aperta è aperta wow una chiesa proprio è proprio una chiesa che figata permesso che sfacello però questa chiesetta dovrebbe essere tipo del 1860 guarda il tetto lì? sapevo che era mantenuta bene non la vedo molto mantenuta questo era l'altare questo era l'altare sì adesso scendiamo giù un drappo particolare è rimasta solo la croce scabernacoli niente scusa qua è la sagrestia? vedi? sì credo di sì ci sono ancora le acqua e santiere come è squarciato il muro dobbiamo stare attenti il soffitto veramente mamma mia devastato questa cosa qui? pesci crostacei sono sì forse sono qualche fiera mi insegna di un negozio sembrerebbe ecco là su mi incuriosisce andava nella casa vicino a avere lo sguardo direttamente sulla messa almeno che non pesi un casino è pesantina è oh è un cavolo è tanto pesante sicuramente regge è questa mi arriva tutto il testo cosa ci sarà lì dentro? è tutta la casa qua secondo me tieni che ti passo la spia è tutta vuota almeno da qua quello si può vedere qua anche il soffitto è messo malissimo c'è una scala che va sotto probabilmente che non riesco a capire se è tutta vuota non credo che il rischio valga la candela va bene ok abbiamo verificato quello che c'era da verificare e noi ce l'andiamo vediamo vediamo va bene qua è meglio è aperto è aperto se c'è una finestra aperta ok fantastico wow si vede già c'è un tavolo che figo vediamo faccio un sacco di roba si no dai adesso devo dentro vado prima io si ok fammi te dentro ok eccomi wow il cavaliere tira eh ecco grazie ma guarda cosa ne ho lasciato qua tazzine tazze stampi tutto così e questo come dici tu il fogolare no questa è una cucina economica un sparga come siamo qua al soffitto ci casca tutto che stanze basse quello che è cascato è cascata che stanze bassissime mamma mia guarda che decadimento che è si qua cosa c'era poi niente ah qui c'era sotto scala no c'era il lavabo vedi si riguarda anche la la mia tutta marcia ok direi che questa è proprio abbandonata no io spero che questa non sia la nostra ultima esplorazione allora vuoi che raccontiamo un attimino un po' di una storia di quel che sappiamo questa casa abbiamo notizia che è stata costruita intorno al 1850 si 1860 da una famiglia di nobili nobili baroni la cosa più importante è che questa casa è famosa perché è stata una residenza per alcuni periodi si tipo nel 1950 in quegli anni lì di Ernest Hemingway ci soggiornava spesso chissà magari qua ha scritto il vecchio il mare si è fatto ispirare no ne ha scritto un altro di cui scusate l'ignoranza non metteremo i sottotitoli al di là ma vabbè non mi ricordo qua come si chiamava però l'ha scritto sembra che l'abbia scritto prendendo ispirazione proprio da queste terre da questi luoghi tra l'altro sono dei bellissimi luoghi qua al velo pazientistico dove ci troviamo adesso bello sì è facile capire perché volessi venire qua anche a soggiornare no? sì e faceva battute di caccia cioè andava a caccia perché questa è una zona ricca di di fiumi fiumi ciattoli sì è una zona lagunare quindi allora andavano con le barchette nei canali e facevano la caccia all'anatra all'anatra allora qui c'è una porta la lasciamo per ultima o vediamo già subito cosa c'è è chiusa? no no basta dai vai forse è chiusa da qua qua c'è? sì spesso sono in barlata secondo me esatto è solo in barlata non penso che sia superfluo dire se c'è qualcuno mamma mia guarda i muri come sono ridotti stica qua facciamo una cosa veloce sì cascato guarda quei pavimenti che c'erano sì sono dei pavimenti cubettati come chiamiamo cioè guardate i muri qua che crepe guarda qua madonna che crepa non è questione di intorno vabbè vabbè andiamo veloci andiamo prima questa stanza qua proseguiamo dritti cos'è? guarda cosa c'è qua dentro tira era il salotto eh andiamo andiamo di qua sì mamma mia guarda qua sta crollando tutto wow guarda 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 che tv la mamma mia qua è crollato tutto bellissima mamma mia e qua i soffitti anche sono decorati le pagine gialle 92 93 vuota un'altra tv questa ancora un'altra mamma mia che antichità eh sì la nostra amica Titi Urbex mi piacerebbe questo posto direbbe che antichità meraviglia vedi era questo con una sorta di di camera una sorta di soggiornino ma c'erano tutte stanze piccoline in realtà una volta una stufa anche perché così mantenevano più caldo sì con una cera un prodotto per tenere sottovoce perché comunque nonostante siamo dentro mi hanno detto che ah guarda qua questa è la sala ingresso sala da pranzo che bella che bella vedete anche qua i soffitti erano i soffitti erano belli decorati sì questa qua sarà stata sicuramente l'ingresso principale lì la mostreremo peccato che ce ne due però perché se guardi bene tanto questo sì quindi si poteva andare uno sarà stato lato strada uno lato corto blu rosso sì quindi originariamente erano e sono stati ricoperti poi guardate anche là avevamo quel colore azzurro verde acqua quindi probabilmente le pareti erano tutte affrescate una volta si erano ricoperte anche questo qua si vede che è questo giallo sopra è sotto l'originale guarda qua sì certamente hanno strati e strati di intonaco sopra e poi li vanno a ricoprire ma perché erano così bevi eh sì c'era questa mania di ricoprire mania hai visto c'è anche un tappeto sopra questo tavolo c'è un tappeto sì il baule l'hai fighissimo sì non c'è un soffitto che si incondiziona di accendere no assolutamente qui il pavimento cambia di nuovo ci sono mattonelle queste sono mattonelle a spina di pesce bellissime si dice così a spina di pesce mi piacciono da morire è qua oddio questa vado io e tu vai vai vado io bella questa stanza è buona questa ma cos'è è una stanza buona questa è troppo buona c'è qualcuno è troppo buona ma no però guarda che ma ci sono delle scarpe è tutto ordinato ma tu dici che c'è un ingresso che entrano in questa stanza paura eh sì non vorrei entrare a cosa no fanno la festa del paese qua ah dici lo standardo lì sai che leggevamo che fanno la festa del paese ah sì ok ok adesso ho capito dove siamo hai capito come ubicazione sì secondo me viene a dare questa qua è la foto di Hemingway cioè è storica questa quel proprietario che andavano a caccia delle anatre è vero ogni anno in questo paese fanno anche dal baulone una sorta di commemorazione di festa ricordare appunto che questo luogo è stato una festa di paese no è stato sete di Hemingway guarda che bella falce l'hai vista eh di fatti questa qui è abbastanza messa bene sì messa bene però vabbè va ok qui c'è una tra porticina a sinistra questo baulone lo guardiamo che carino ma non c'è niente non c'è niente ma figurati questo è un mattello questo è di sì è quello quel legno lì fatto a costa una cosa grigola un rostro vediamo se c'è qualcosa da dentro ma non c'è niente ti accontento ma ecco non c'è niente è pieno di tesori invece sono cocci magari troviamo un manoscritto di Hemingway che va in un casino una sua lettera sì l'hanno lasciato lì apposta non si chiamano le lettere autentiche sì l'hanno lasciato apposta per noi per start up sì che spinge abbiamo già capito come sono state stanze eh io beh ho capito vabbè vabbè bella questa tu dici guarda che c'è una sorta di stufa che caratteristiche con le perline così ma mi è crollato tutto eh sì è tutto completamente crollato guarda che ci sono ancora le tendine sì tiziali ti sa che stanza soggiornava no? soggiornasse hotel Paris sì ah sai che non lo so cioè è il menù alla carte di un ristorante di Parigi di che anno è? non vedo date questo è un contratto notarile sui prezzi il listino in franchi comunque quindi è molto vecchia sta roba qui ma tu dici che mi bazzicava anche con la Francia beh guarda qua fino dell'anno 1990 qui c'è una busta che non ti faccio inquadrare che è destinata praticamente a uno dei proprietari di questo posto guarda le tende figo questo è un salone figo guarda le scarpe di Hemingway senti il pavimento come va giù sì va giù di brutto guarda 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 questi armadi c'hanno i vestiti dentro non ci credo non ci credo guarda questo potresti usarlo tu per fare il urbex certo ha le scarpe pazzesco chiudiamo com'era che belli anche gli armadi accidenti questo qua fatto d'angolo sì bellissimo che casino ma cammini sprofondi cavolo ma qua no qua è un deposito c'è un frusaglio che bello c'è un altro armadio lì a con anche quello là c'è tanta roba l'ho visto quando siamo entrati mamma mia qua c'è il pavimento in legno i capotti ti aiuto è una sorta di grembiule ah sì grembiule della servitù forse che figata veramente questo caminetto che la mia moglie ha anche visto è abbastanza folcloristico vero è stranissimo questo caminetto tutte queste cose perlinate che qua si regno dappertutto modena di fare perlinato comunque anche le tende sono indubbiamente anni 70 sì andiamo avanti sì penso che siamo tornati nella sala ma che bella porta con questo ah sì siamo qui ok quindi è il piano superiore se abbiamo il coraggio di andarci eh sì andiamoci aspetta le scale le ho viste prima non sono in ottime condizioni ecco le quelle scale guarda che cavolo di soffitto eh boh queste scale qua vado piano prima io tu mi dici cosa vedi mamma mia in realtà dovrebbero tenere sai perché sono di pietra guarda che belle che sono sono belle vado prima io per aspettare sì sì io ci andrei mamma mia che dei pavimenti che ci sono qua cosa c'è? dei pavimenti vieni vieni oh la vasca da bagno quella che piace a noi dai sì ma peccato Dio ma non l'hanno lasciata proprio così e che pavimenti veramente c'è quei piedini a zampa di leone guarda lì siamo una una volta che meraviglia siamo una una volta perché legno lo sento che bella e cosa c'è un divanetto in bagno? perché no una sorta di lucchetto ma ma sai che forse si accede anche a questa parte oddio cosa? ma ho preso un pavento vieni 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 sono trovato sta stanza da letto che pensavo che ci fosse una persona sopra oh signor guarda che letto e magari qua dormiva Hemingway eh può essere forse è una delle stanze più belle beh è la spirapolvere l'ho già vista una spirapolvere così più tardi e quella era una stufetta ma ti c'è qualcosa qua sotto? ma no cosa vuoi che ci sia? no no superta si figa a me è un labirinto però è un labirinto si è grandissima davvero grande questa doppia porta una porta doppia porta sarà un casino richiudere tutte le porte come erano oh questa è una stanza singola c'è solo una brandina mamma mia come che ridotta che è e poi c'è un'altra stanza là ma che bella anche questa mi piace molto forse qua stava in linguella c'erano i signori no? io ero così piccolo ma lui aveva bisogno di un letto singolo mica di un matrimoniale si ma piccolino è corto ma non vuoi t'erano tutti bassi tristi ci stiamo perdendo non usciremo mai più da questa casa siamo tornati oh mio dio facciamo delle scale ho capito dove siamo noi siamo arrivati da là ok che pavimenti meravigliosissimi perché hanno messo FR FR sono le iniziali sono le iniziali dei proprietari dei nobili dei nobili guarda che forse c'è la porta aperta qui noi abbiamo fatto i rovi ma siamo al secondo piano oddio è vero mi hanno dimenticato di questo è un balconcino questo si ma quasi si sono portati via i letti hanno lasciato solo i materassi eh si è un balconcino questo qua beh è la nostra casa però ovviamente non aprirò non aprirò no certo ma scusa questo cos'è qua cos'è sul soffitto guarda ma cos'è oh mio dio non ho la più palida è un fungo ma che schifo mamma mia un altro stanza da letto si qua è legno ok c'è un altro letto con tante cose tante cosine sopra piano è come camminiamo io sento proprio attorno tarile anche qua si questo è un disegno qualcuno ha fatto questo è un disegno di un tipo con pesce non so se si vede niente non troviamo il manoscritto però sarà difficile che troviamo il manoscritto tutti i letti a terra ma guarda ci stanno ancora le tende tante stanze da letto tantissime ah e questo ritornerà della scala si ancora sopra c'è dopo ancora quelle pareti si si certo perché proseguivano siamo entrati qui però dobbiamo ancora andare in fondo si dobbiamo andare di là ma enorme si mi spiace fare anche un giro così confusionario ma non saprei come altro farà perché no no infatti qua è crollato un casino qua è tutto crollato mamma mia guarda che soffitti accidenti è stata più lasciata è decadenza più totale è un peccato perché è una cosa storica un'altra stanza da letto guarda che belle queste pareti si questa è è tutta colorata sono come delle vase vase di fiori una bellissima stufa terracotta si quelle facevano tanto tanto caldo guarda una ciabatta una pantofola lì sotto davanti al letto si 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 era lui era la sua ciabatta si che usava è una valigia anche raggiù è una valigia si ma qua il pavimento è marcio e non ci va da sopra si è proprio bagnato perché qua si non andare oltre infatti c'erano anche i funghi si dovevo portarci la mascherina a certi posti casse armadi pensavo di essere già stato ma qua ci sono sicuramente i tesori ma guarda che paura gigante hai visto una roba così grande cioè veramente guarda che starà due metri si ma ci mettevano qui dentro ci stavo morto qua dentro aspetta aspetta se vuoi provare da prima è metallico ah ma ci sono stato materassi materassi però è metallico è stato domenico mamma mia è strano che solo lui non abbia tirato giù il pavimento e queste casse ma secondo me quelle lì erano casse che servivano per per i trasporti si si vuote comunque vedi quegli armadi sono lottati secondo l'otto perzo l'otto è vero o l'ho messa all'asta ah può essere e quindi ma non credo e uno si prende l'armadio così come sta con quello che c'è dentro che è assolutamente vuoto questo vuoto anche vediamo questo giusto per essere sicuri no qua ci sono delle tazzine tazzine della colazione di Ernest arancioni si è con questo stile anni 70 forse anche 80 di che data è quella 1972 chissà se si riesce a leggere 1972 e là c'è un altro giornale La Notte ma tu hai mai sentito un giornale che si chiama La Notte? mai sentito La Notte questo qua ed è La Notte 1972 anche questa ma pensa a te Milano ci sono cose di ogni età e ogni epoca qua dentro e questa porta qui no? questa porta qui prima no? come vuoi scale oddio ancora? non so se farlo stai qua no no facciamo dopo in caso è proprio proprio è pieno di piccioni ma dove? no no non è piccioni i cacinazzi sono caduti ma finiamo il piano scusa bagno vecchissimissimo vasca da bagno con i piedini sai cosa c'è qua? guarda sai cosa c'era qua? qua sopra la casa del pipistrello oh il nostro amico? ma guarda questo qua è di pipistrello si pensa almeno si c'è tutto accumulato così ora che bello un altro bagno si tutte le vasche originali con i piedi la più bella quell'altra si questo è un pochino più si anche qua guarda che si vedono in tonaci i colori che c'erano originali sotto lì e dopo li hanno ricoperti ah ah guarda la tendina che carina va bene andiamo qua davanti che bella luce che entra da questa strada mia guarda il pavimento come va giù si l'ho visto lo piano che caldo che fa qua perché? non so forse perché entra il calore della frittà è vero c'è un buco qua non so attento c'è una temperatura nettamente diversa mamma mia qua facciamo traslocchi perché ci sono e forse si volevano portare via tanta roba magari un pezzo di pivano le cose più belle giustamente le hanno portate via non so neanche a guardare queste cose qua perché fiammiferi di cera comunque ci sono veramente documenti del 1950 anche no con la metà delle cose che troviamo nelle case abbandonate sono cose contabili è vero guarda questa scarpa quel tacco ah si scarpetta il fatto tutto così un tappetto persiano 10.000 euro beh che che belle queste manigliette si mamma mia mi sto perdendo ma qua cosa sono queste scale qua adesso ho capito dove siamo hai capito no ah chiesa la finestra della chiesa si adesso voglio andare è vero quella che noi avevamo guardato è vero si vedeva proprio qua e quindi loro potevano assistere la messa direttamente dalla balconata ecco qua no che figo eh bello mamma mia là c'è proprio una voragine e io non andrò assolutamente oh oh la vedi pure qua cioè questo è il pezzo della si proprio mamma mia dell'edificio che è proprio andato giù è crollato tutto si me ne andrei io me ne andrei però qua sotto qui qui si narra si che una persona è stata murata viva sta murata viva dentro si perché aveva rubato le lemosine al prete o i fagiani non è vero non penso che nessuno ci abbia creduto comunque perché no ma qua sotto cosa sarà questo è un bagnetto accogliente ma si arriva la chiesa qua guarda che bel bagnetto accogliente scusa ti fareste una doccetta qua no guarda che guarda che guarda che piastrelle che belle si le piastrelle sono belle il bagnetto c'è la meditazione come entrata qua dentro è una roba di pazzesco si si ma gli apra tutto c'è la forza della natura è incredibile questo cos'è l'antibagno io salirei anche se non so come sia salirei ancora poi scendiamo dopo va bene che bella questa ringhiera e comunque sono meglio queste scale rispetto a quelle altre ah qua è semplicemente un sottotetto puoi anche venire a vedere ma non c'è nulla di che mamma mia questo tetto come è inarcato tutte le travi che si stanno con l'un momento all'altro accidenti che spazio ma potete fare le feste qua si ma c'è i festini non più di due perché crona tutto mamma mia questa è mamma mia il pavimento carte carte sparse documenti per terra di tutti i tipi c'è documenti carte bolle non c'è non c'è allora che dire abbiamo concluso questa situazione molto bella ovviamente io non pensavo di riuscire a trovare aperto due che fosse così tutto crollato dentro però sì è interessante sapendo la storia si può ispirare sì infatti immaginare che ci ha vissuto uno dei maggiori poeti americano ragazzi speriamo che l'esplorazione vi sia piaciuta noi ci siamo divertiti abbiamo ispirato un sacco di polvo tantissimo quindi iscrivetevi campanellina al canale campanellina alla prossima